La storia che ti sto per raccontare ha veramente dell'incredibile perché ci dimostra che anche senza budget pubblicitario e con un prodotto apparentemente noioso si possono fare lo stesso grandissime cose. Lui si chiama Tom Dixon e produce dei potentissimi frullatori però quando ha iniziato le vendite andavano veramente malissimo. Tom sapeva che i suoi prodotti erano migliori di quelli della concorrenza però come poteva fare a dimostrarlo e soprattutto come poteva fare a emergere? Inoltre bisogna considerare che lui era l'ultimo arrivato infatti gli altri c'erano da molto più tempo e avevano soprattutto molti più soldi da investire in comunicazione. Pensa addirittura che il suo budget pubblicitario ammontava 50 dollari. Ma si sa, quando non hai soldi devi lavorare d'ingegno. Hai un potente frullatore che potrebbe frullare qualunque cosa senza rompersi? Benissimo, dimostralo. Dammi delle prove facendo dei video. A questo punto, armato solo di un telefonino per file riprese iniziò a frullare di tutto bigli in vetro, hard disk sino ad arrivare a frullare gli oggetti del desiderio per l'antonomasia ovvero gli iPhone. Questi video divennero virali in pochissimo tempo facendo milioni di visualizzazioni e soprattutto installarono nella testa delle persone che questi frullatori erano indistruttibili e potentissimi. Da lì le vendite schizzarono alle stelle. Facendo milioni di visualizzazioni gratis su YouTube il fatturato aumentò del 700%. Da questa storia possiamo trarre un importantissimo insegnamento ossia che non importa quanto il tuo prodotto sia noioso ci sarà sempre un modo per raccontarlo in maniera interessante. Se poi lo fai con i video e hai il coraggio di metterci la faccia beh, il gioco è fatto. E tu invece che strategia usi per far parlare di tuoi prodotti? Guarda, mi piacerebbe moltissimo sentire il tuo racconto quindi se puoi, lascia un commento qui sotto. Ok, prima di salutarci volevo ricordarti che ho realizzato un videocorso sulle strategie di marketing essenziali per il tuo business e se superi l'imbarazzo di mandarmi un messaggio privato te lo invio gratuitamente. Da Stefano Cruque è tutto ci vediamo nel prossimo video Ciao! Ciao!